Ormai da moltissimi anni il nostro fantastico governo mondiale si prodiga per risolvere i problemi dei suoi cittadini. Abbiamo eliminato quelle fastidiosissime manifestazioni il fine settimana. Abbiamo eliminato la pericolosissima gravidanza. Abbiamo impedito che dei giovani solitari potessero togliersi la vita senza rispettare le norme di sicurezza. È per questo motivo che da oggi c'è... Suicidio statale! Con suicidio statale puoi programmare la tua morte e guadagnare un bel gruzzoletto. Sei forse stanco di vivere questa vita misera con il tuo misero reddito mondiale. Le tue anfetamine non danno più la soddisfazione di una volta. E tu vorresti tanto fare ancora qualcosa di utile per la società. Lì in fondo nei tuoi pensieri hai paura di spegnerti magari con una grave malattia nel tuo letto di mastrotta. Grazie all'aiuto dei nostri funeral planner potrai programmare il tuo funerale come vuoi tu il giorno che vuoi tu. Ho sempre desiderato morire a primavera. Potrai scegliere il legno della tua bara. Il colore dei paramenti. La musica adolescenziale da mettere al tuo funerale. Le parole da far dire all'ufficiante durante la celebrazione. Oltre ad evitare una vita di stenti ed un'inutile perdita di tempo nel raggiungimento di impossibili obiettivi. Potrai garantire ai tuoi figli la possibilità di studiare. Anche se per la loro classe sociale è inutile. Fai un figurone con i tuoi amici. Recati subito nel sindacato più vicino a casa tua e chiedi informazioni. Suicidio statale. Morire non è male.